Vi piacerebbe conoscere gli affreschi, osservare le sculture, ammirare il coro della chiesa di San Girolamo della Certosa di Bologna, magari stando comodamente sul divano di casa propria? Da oggi si può. È infatti disponibile online un modello 3D che consente di passeggiare virtualmente tra le bellezze della quattrocentesca chiesa facente parte dell'antico convento certosino. Basterà collegarsi su internet all'indirizzo certosadibologna.it e cliccare su Museo Virtuale. Una volta entrati è l'utente a decidere cosa inquadrare e cosa approfondire. La chiesa diventa in pratica una sorta di spazio multimediale interattivo in tre dimensioni. Un'altra tappa del Museo Virtuale della Certosa è inaugurata, è la ricostruzione tridimensionale della chiesa di San Girolamo che contiene forse il più grande ciclo barocco visibile oggi a Bologna, quindi sarà possibile navigare all'interno della chiesa e attraverso di essa accedere a tutto il database con le biografie, le foto, migliaia di oggetti. Alle nostre spalle vediamo un dipinto che faceva parte della chiesa, ora qui a Palazzo da Cursio. Sì, è una grandiosa pala eseguita nel 1644, già nella controfacciata della chiesa e finita qui recentemente dopo il restauro. Se volete sapere la storia basta andare sul sito. Oltre alla possibilità di muoversi nello spazio virtuale l'utente può interagire dinamicamente con i suoi contenuti, può infatti cliccare in alcuni punti sensibili ed accedere a schede di approfondimento, immagini e contributi multimediali relativi ai quadri, alle sculture e le altre opere d'arte della chiesa.